La scuola di 64, maggioranza 177, farò di 39, contrari di 13, la Camera respinge. A questo punto siamo all'articolo 31, se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo 31. Lainati, Lomonte, Gadda, Martella. Stiamo votando l'articolo 32, dove ho un emendamento del 32.1, mi conferma il parere contrario sia il relatore, che il Governo, presumo, e quindi se nessuno chiede di intervenire, 32.1, Grimoldi, la votazione è aperta. Chi è che non riesce a votare? Ci siamo? No, chi è che dice no? Verini e Monchiero. Verini, Monchiero. Bene. Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 417, votanti 323, stenduti 94, maggioranza 162, farò di 55, contrari di 268, la Camera respinge. Articolo 32, qualcuno intende intervenire? Non mi pare, la votazione è aperta. Votiamo l'articolo 34.000.